Ciao ragazze, finalmente sono tornata con un nuovo video, mi dovete scusare, ma ho avuto un problema all'occhio che fortunatamente sono riuscita a risolvere in pochi giorni e quindi eccomi qui a girare video per voi questo qui sarà un video giveaway, come ben sapete io collaboro con il sito Semidress e tempo fa sono stata contattata da loro e mi hanno proposto di fare un giveaway primaverile per voi come funziona è molto molto semplice, nell'info box troverete i link alle collane che Semidress ha messo in palio per voi mi aveva proposto sia dei premi inerenti a accessori, come in questo caso collane, che all'abbigliamento non ho preso camicette o quant'altro, non ho scelto l'abbigliamento perché non voglio che semmai la vincitrice non può utilizzare il premio perché come sapete Semidress è un sito cinese, le taglie non corrispondono diciamo a una M reale o a una L reale, quindi a una 44 e una 46 ma sono sempre più strette e mi dava noia se non potevate utilizzare il premio, quindi ho deciso di scegliere degli accessori loro ne hanno messi in palio 5 o 6 e li troverete giù nell'info box quindi io vi invito a cliccare sopra i link che vi lascerò giù nell'info box e a vedere quale collana preferite nei commenti mi lasciate scritto la collana che volete se non volete scrivere il link perché vi scoccia mi scrivete tipo collana 1, collana 2, collana 3 e quindi io mi regolo praticamente e nulla, le regole sono sempre le stesse essere iscritta al mio canale, mettere questo video tra i preferiti lasciare un massimo di 3 commenti e in ogni commento mi raccomando scrivete la collana che volete perché se no non so quale collana farvi mandare perché la vincitrice sarà contattata da me che sarà estratta sempre tramite random.org e io manderò i recapiti e i dati personali della vincitrice all'azienda proprio che vi spederà tutto a casa la collana che avete scelto senza pagare niente senza spese di spedizione e quant'altro è veramente semplicissimo l'unica cosa che vi chiedo è di andare a vedere giù nell'info box le collane in palio scrivermelo nei commenti e questo giveaway durerà una settimana da oggi io vi abbraccio forte vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ragazze ciao